Due gol segnati all'ultimo portiere italiano capace di alzare al cielo la Coppa del Mondo. Due gol realizzati dal dischetto, trafiggendo con freddezza un signore di nome Gigi Buffon, più un terzo che per la Lega è autorete di Balog, ma che invece Walid Kedira sente assolutamente come suo. Siamo felici, poi i tre gol a Buffon, che è un'icona del calcio, un idolo, è un qualcosa che ti fa solo che piacere e ti dà stimoli per continuare. Il sogno di Walid Kedira continua e se possibile diventa ogni giorno più bello e se qualcuno pensava che, tornato dall'esperienza mondiale, che Dira potesse sedersi sugli allori di una stagione già straordinaria fino a dicembre, si sbagliava di grosso. Non ho mai pensato di sedermi o accontentarmi perché in questo mondo qua purtroppo chi si accontenta non gode e quindi continuiamo così e speriamo di far bene. L'italo-marocchino di rientro dal Qatar e subito in campo contro il Genoa aveva già riallacciato i fili del discorso interrotto a Benevento, ultima partita giocata prima della partenza al seguito della nazionale africana, recuperando immediatamente quel suo rapporto con il gol, che quest'anno sembra essere più solido che mai. E il 2023 del numero 11 dei Galletti si è aperto come meglio non avrebbe potuto, con una prestazione superba dinanzi a una delle compagini più forti del torneo, quel parma di cui il Bari si è letteralmente sbarazzato, anche e soprattutto per merito suo. Una performance indimenticabile, quella del capocannoniere del campionato, e che è andata ben oltre i 2-3 gol realizzati, che dire è stato incontenibile per tutti gli 86 minuti trascorsi in campo, correndo a una velocità doppia rispetto a chiunque altro sul rettangolo di gioco, prima della meritatissima standing ovation concessa agli Damignani e a lui riservata dai 17.000 presenti al San Nicola, che a ogni rete del loro idolo sobalzavano di gioia e al contempo tremavano al sol pensiero del rischio di doversi separare dal giocatore simbolo di questa stagione. Non è un mistero infatti come le sirene del calciomercato risuonino forti attorno alla punta di diamante dei biancorossi, che tuttavia promette di star bene a Bari e di non volersi muovere. Tutti, dal più giovane al più anziano dei tifosi, non possono che augurarsi che vada davvero così, perché immaginare un Bari senza che dire oggi sembra un'idea a cui nessuno vuole nemmeno lontanamente pensare. Sono contento qua a Bari, sto bene qua a Bari, quindi tranquilli.